L'arresto e il sequestro di patrimoni per oltre 12 milioni di euro. È la risposta della giustizia ad un'organizzazione che, con metodi mafiosi, soggiogava un intero settore, monopolizzando il mondo dei videopoker nel Sud Salento. Non solo, i software di alcune macchinette venivano modificati in modo da non far vincere mai il giocatore, truffando così, oltre agli avventori dei locali in questione, anche lo Stato. Gli apparecchi, pur essendo collegati alla rete telematica dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, venivano manomessi in modo da trasmettere i dati sulle giocate solo parzialmente. No, se io azzero la contabilità, se azzera tutto, io ho capito cosa vuole fare lui. Azzerare tutto, anche la storica, e aumenti la percentuale. Però così, così però, ascolta, il jackpot scambia tutto. No, e il giocatore se ne accorge, a questo punto, ha capito? La Guardia di Finanza, con l'operazione Clean Game, ha arrestato 27 persone, due gruppi criminali finiti nell'indagine. Il primo, secondo gli investigatori, è riconducibile a Salvatore De Lorenzis, l'imprenditore dei videogames di Racale. Arrestati anche i tre fratelli, Pietro Ilario, Pasquale Gennaro e Saverio. Il gruppo si avvaleva di metodi mafiosi posti in essere da alcuni affiliati storicamente vicini ai noti clan Troisi di Casarano e Padovano di Gallipoli. Veniva imposto a numerosissimi esercenti della zona il noleggio dei dispositivi delle aziende del gruppo, impedendo ad aziende concorrenti di accedere a quel mercato. L'altra formazione era dedita all'alterazione e alla vendita delle schede di gioco inserite negli apparecchi. Tra i reati contestati c'è il 416 bis, l'associazione mafiosa, che si contraddistingue per l'uso della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Ed ecco cosa viene detto in una conversazione telefonica intercettata dalle fiamme gialle agli ordini del colonnello Vincenzo Dirella. Così si pensava di agire nei confronti di chi aveva manifestato la volontà di staccarsi dal gruppo. Lui il tradimento che ha fatto a me deve pagarlo con me, da uomo a uomo. E io la vita gliela tolgo e lo dico, vado in carcere per lui. Lui deve dire grazie a me, però io come gli ho dato il cuore e glielo tolgo. Se no non mi chiamo via. Quello che ha sottolineato il procuratore Cataldo Motta è l'autonomia rispetto alla sacra corona unita di questo sodalizio. Purse in una conversazione si fa riferimento ad un pensiero per Rosario Padovano a manifestare come si volessero mantenere buoni rapporti territoriali con quel gruppo. Le indagini hanno evidenziato come le condotte illecite non si limitassero al gioco d'azzardo ma sconfinassero anche nell'esercizio abusivo dell'attività finanziaria. Concedevano prestiti ai gestori dei locali per favorire l'avvio dell'impresa, salvo poi pretendere la restituzione delle somme minacciando di incassare i titoli di garanzia se non avessero installato quei videogiochi nei loro esercizi. Tra i destinatari dell'ordinanza anche Dario Panico, funzionario dei monopoli di Stato che secondo gli inquirenti faceva il gioco dei De Lorenzis e ancora Lucio Riotti, già direttore sportivo del Racale Calcio di cui Salvatore De Lorenzis è stato presidente. I provvedimenti di cattura emessi dal GIP Antonio Martalò su richiesta dei sostituti procuratori Carmen Ruggero e Giuseppe Capoccia oltre che del procuratore Motta sono stati eseguiti oltre che a Lecce, Racale, Taviano, Alliste, Melissano, Gallipoli, Copertino, Carmiano e Monteroni, anche a Mesagne, Milano, Modena, Rimini e Crotone. Ha illustrato l'operazione anche il procuratore della direzione nazionale antimafia Francesco Mandoi che ha spiegato come i gruppi fossero in affari anche con dei calabresi che fornivano le schede contraffatte per alterare i videopoker. Il patrimonio mobiliare e immobiliare sequestrato vale più di 12 milioni di euro. Si tratta di 69 fabbricati, 25 terreni, 3 auto, 10 società di capitali, 2 ditte individuali e saldi attivi di conti correnti accesi presso 15 istituti di credito. Il prefetto di Lecce, Giuliana Perrotta, da mesi chiedeva l'interdizione e il commissariamento delle società finite nell'indagine. Oltre all'associazione mafiosa, le ipotesi di reato contestate sono di truffa ai danni dello Stato, frode informatica, esercizio di giochi d'azzardo ed esercizio abusivo di giochi e scommesse aggravati dal metodo mafioso, illecita concorrenza con minaccia o violenza, trasferimento fraudolento di valori, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio.